Attesa come sempre da migliaia di fedeli, la processione del venerdì santo di Chieti rinnova la sua secolare tradizione con il corteo del Cristo morto, che quest'anno attraverserà una piazza San Giustino rinnovata dopo i lavori di riqualificazione portati avanti dal comune. Ma potrebbe non essere solo questa la novità di quest'anno. Il corteo del Cristo morto, che a Chieti va avanti dall'anno 842, quest'anno dovrà anche vedersela con lo stato di agitazione annunciato dall'RSU della Polizia Locale e una possibile astensione del lavoro per venerdì pomeriggio, proprio in concomitanza con la processione. Questione già affrontata ieri in prefettura, in occasione della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con il prefetto della Cioppa, che ha invitato tutti al buonsenso, annunciando l'eventuale impiego di ulteriori forze di polizia, mentre il Comune ha deciso di aumentare il numero di volontari di protezione civile della città per mettere in sicurezza il percorso della processione. Intanto l'arci confraternita del Sacro Monte dei Morti continua i preparativi in vista dello storico corteo, come spiega al Tg8 l'ex governatore Giampiero Perrotti. La sagra funzione sarà alle 17.30 e la processione partirà verso le 19.00, il percorso è quello ormai che da decenni e decenni si raggiunge la piazza del teatro via Cesare Lollis, via Arnienze e poi si ritornerà nel centro storico e si concluderà abitualmente come accade verso le 21.30 in questa piazza rinnovata e che è un degno palcoscenico di questa processione che nei secoli si svolge in questa città. Quali saranno i momenti salienti? Come sempre grande attesa per il miserere di Selecchi e poi? Poi il passaggio dei simboli del ponte che risalgono alla metà del 1800 e che sono delle vere e proprie opere d'arte. Qual è il segreto del fascino di questa processione secolare che va avanti dall'842 ininterrottamente? Neanche il Covid l'ha fermata? No, neanche il Covid l'ha fermata, non l'ha fermata neanche la guerra perché nel 1944 anche sotto i bombardamenti la processione si svolse e anche durante l'occupazione da parte dei tedeschi. È qualcosa che è nell'animo dei chietini, un parrimonio quasi genetico. Il miserere di Selecchi è diventato un momento topico della processione? Sì, è un momento che emoziona. La prova generale del coro e dell'orchestra del miserere che si svolge all'interno della cattedrale alle 12 di venerdì santo. Questa mattina all'interno della cattedrale del santo patrono la preparazione dei sette simboli sulle lettighe che sfileranno in corteo per le vie del centro cittadino. Come di consueto anche quest'anno Reteotto trasmetterà indifferita le principali processioni abruzzesi a partire dalle ore 21 di venerdì santo. Si comincia con la processione degli incappucciati di Lanciano per proseguire con la desolata di Teramo, la processione del venerdì santo di Sulmona, quella del Cristo morto dell'Aquila, la via Crucis di Pescara e infine la processione del venerdì santo di Chieti.